Parliamo con Davide Rossi di questa gara, insomma un buon pergo per un tempo o meno nel secondo e c'è stata anche un po' di sfortuna per le tue occasioni non concretizzate. Sì, forse il secondo tempo hanno fatto meglio loro, c'è da ammetterlo. Il primo tempo è stato combattuto, forse le occasioni migliori le abbiamo avute noi con il par e la traversa mentre il secondo tempo abbiamo preso subito gol 1-0